Inaugurata la nuova area camper di Calalzo, a otto posti, è dotata di postazioni con colonnine elettriche e area per carico e scarico dell'acqua ed è vicina alla ciclabile delle Dolomiti e al lago di Centrocadore. È costata 87 mila euro ma una parte importante è arrivata da un bando promosso dai produttori di Caravan. Oggi inauguriamo quest'area camper che abbiamo fortemente voluto assieme all'associazione di produttori di camper che ci ha finanziato parte di questo progetto con circa un quarto del suo costo. È un'iniziativa che abbiamo voluto proprio per dare anche a questa forma di turismo che è fortissima crescita un luogo ed un servizio. Noi crediamo che le comunità locali debbano potenziare i servizi che oggi offriamo. Quello dei camperisti è un settore appunto in crescita e che andava assolutamente regolamentato oltre che valorizzato. Quest'area camper mi fa molto piacere che sia finalmente aperta così perché ci tenevo molto insieme. Siamo un gruppo di amici, siamo molti qua a Calalzi camperisti, un gruppo di amici che ci troviamo anche spesso a viaggiare insieme e avevamo proprio il desiderio di un'area anche nel nostro paese, nel nostro territorio, che è bellissimo, che possa essere scoperta da tanti turisti. E quindi questa festa di questa apertura, vedere anche già gente che si ferma così, mi fa molto molto piacere. Insomma, ecco, mi auguro che sia sempre più conosciuta.